Nonostante le critiche, lo sciopero annunciato dagli avvocati e i cortei di protesta degli amministratori locali, il ministro Anna Maria Cancellieri non farà alcun passo indietro sull'accorpamento dei tribunali. Lo ha dichiarato domenica in un'intervista al Corriere della Sera. Affermazioni che mandano su tutte le furie i parlamentari che con una mozione e due ordini del giorno hanno chiesto una proroga. Certo le dichiarazioni del ministro Cancellieri sono deprimenti però bisogna continuare a lottare e dare tutto il supporto a tutti coloro che credono in un sistema di giustizia più efficiente che non si può basare solo sulla scelta di un immobile un po' più grande se poi non ci sono i servizi come nel caso di Lecce. Non so come faremo a mettere tutto nella zona di via Brenta e dintorni a cominciare delle infrastrutture viarie e dei parcheggi. Il ministro dovrebbe rispettare il Parlamento, afferma Rocco Palese, deputato del PDL, che poi annuncia nuove iniziative parlamentari studiate insieme al leader Raffaele Fitto per bloccare la chiusura delle sedi giudiziarie distaccate che in alcuni casi potrebbero determinare la paralisi della giustizia. Intanto i ricorsi al TAR vanno avanti, come anche le proteste. A Ginosa tanti amministratori locali in corteo, pronti alle barricate per difendere le sedi periferiche. In ambienti ristrettissimi e inadeguati stiamo provando a reggere in questa difficile fase, spiega il presidente ANM di Lecce, Roberto Tanisi. Il calendario delle udienze è già fissato e continuano i trasferimenti dei faldoni. Gli operatori della giustizia si adeguano al cambiamento. L'approccio di giudici e magistrati alla riforma in realtà è più ottimista. Tanisi ha spiegato in diverse occasioni che l'accorpamento è necessario e che non vede di buon occhio il ricorso di alcune amministrazioni locali. Se i 18 dovessero dare ragione a Casarano, ci sarebbero una serie di pronunci a cascata che sterilizzerebbero la legge. Sulla stessa lunghezza d'onda, il presidente della Corte d'Appello di Lecce, Mario Buffa, che più volte ha dichiarato pubblicamente che i ricorsi alimentano l'atteggiamento di attesa che ha prodotto solo ritardi e guai a Lecce e a Taranto. Il 13 settembre scatterà la chiusura delle sedi distaccate. Sette sedi a Lecce, anche se Nardò e Maglie resteranno aperte per smaltire il vecchio lavoro e Casarano potrebbe seguire la loro sorte. Quattro sedi a Taranto, Martina, Manduria, Grottaie e Ginosa e quattro a Brindisi, Fasano, Stuni, Francavilla e Mesagne.